Il treno passa una volta Sì, è una cosa sola Ti auguro tanta tristea, ragazzi Lo regaliamo Questo? E' scelta C'è 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 scelta Mi vediamo bene così C'è rossa C'è rossa C'è rossa C'è rossa C'è C'è rossa Un percento alto E lo sposo dove è stato? No, comunque, grazie. In realtà è diversa. E' bello, eh? Sono un documento in timenticato. E' bello, invece. E' un libro particolare. Te lo facciamo una cosa, bene. Quatt'anni di me. Quindi questo lo chiede. E' un libro particolare. E' un libro particolare. Cerca gioelle. Eh, e mi chiede? Cerca gioelle. No, no, non è così. E' un libro particolare. E' un libro particolare. E' un libro particolare. Aspetta, dai, lo facciamo insieme? Sì. Uno, due, tre. Cerca gioelle. Anche ora passi. Ecco, mettiamoci il 24, dai. Arancione? Sì. Ok. La caccia a te è solo per i miei genitori. E allora voglio farla vedere questa cosa. Vedi? Un attimo solo. Aiutami, lo sento. Allora, facciamo che ci mettiamo tutti i dritti. E poi dopo... Ciao, mamma. Ci mettiamo tutti i dritti. E poi dopo ci giriamo... Cerca gioelle! Cerca gioelle! Mamma, sono i miei cucine dell'America loro? Eh, no! E' carata di 15 anni. See you next day, ok? E' Nicolo. E' Nicolo. Eh, no, certo. E' se è italiana? Sì, ma... No! Ah, non! L'hai più italiana di vita. Però loro ti amano. Io ti amo. Stella? Io Maria. Giuseppe e Maria. 1, 2, 3, 4 Mi raccomando eh I MSG sono la nostra famiglia Ciao Ciao Auguri ragazzi Ah, un'idea vostra Ah, un'idea vostra Ah, invece stavo in giro nel MESG No, invece io non dicevo È l'originale come idea Sposo parte solo, anche lo sposo Auguri Auguri, ciao ciao Ciao, buona serata Buona serata Buona serata Buona serata Per cento? Per cento anni Che vuol dire? Per cento anni Non si schiatta Perché non si? Perché non si schiatta Ma perché non si schiatta? Per la pubblicità A vita e terra A vita e terra Meglio del prete Sono arrivati i parenti 1, 2, 3 C'è la giornata Inizia Che vediamo alla festa Vai vai Grazie 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 1, 2, 3, Re Casuale! 1, 2, 3, Re Casuale! Siete fantastici! Su internet basta che scrivete check-a-joy! Ah check-a-joy! Ciao! Ho mangiato qualcosa! Compligenze per tutto il benissimo! Grazie! E' una donna fantastica! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Allora... Grazie a tutti. A tutti. No... Grazie a tutti.